Ciao Roberto, direi il primo tempo su tutto, nel senso penso sia il momento della squadra, quella squadra ti è piaciuta di più, dove avete indirizzato la partita e forse il neo di non averla chiusa prima. Sono partite che affrontano gli avversari che hanno fame di punti, loro sapevamo che si erano allenati a Pasqua, a Pasquetta, sono andati in ritiro ieri per preparare bene la partita, perché per loro era una partita vitale. Noi potevamo commettere l'errore magari di non credere a quel primo posto che abbiamo inseguito fino ad oggi e magari affrontare la partita in modo non aggressivo e intenso come l'abbiamo fatto. Invece il secondo tempo è piaciuto che nei momenti di difficoltà rispetto alle altre partite si è riscato di meno. Questa è una caratteristica che ti deve accompagnare, perché ci sono sempre gli avversari, ci sono anche i momenti delle partite dove non sei in perfetta forma o in condizione, magari qualcuno come Brambilla, come Adamo, gli ultimi dieci minuti, un quarto d'ora non ne avevano più e quindi potresti anche avere dei momenti di sofferenza. Tu devi essere bravo anche a tenere botta, a non rischiare niente, fare il secondo gol e chiudere le partite. E' questo su cui dobbiamo lavorare, perché credo che la resistenza mentale, gli atteggiamenti forti, come avevo detto in conferenza stampa, stare sul pezzo per 95 minuti, non staccare mai la spina, come era successo con i 20 minuti anche a San Donato. Nelle partite secche, da dentro o fuori, non te lo puoi permettere. Non avete staccato la spina, a non avere rimpianti finalmente ha portato a guadagnare una posizione, perché se è vero che il primo è andato a questo punto diventa fondamentale. Assolutamente, siamo concentrati sulla partita di Alessandria perché non vogliamo il secondo posto, perché ti cambia tanto, perché devi dare continuità e devi arrivare ai play-off di slancio, con convinzione, con consapevolezza, con fiducia. Per questo siamo già concentrati sulla partita di Alessandria. Oggi ha segnato anche l'altro gemello, Cristian, però alla vigilia ha stupito un po' tutti il Ferrante a vederlo oggi in tribuna. Come la spieghi? Non è successo niente di particolare, c'è stato un confronto con l'intelligente, sereno, con il ragazzo che non vede in condizioni in questo momento, che anche inconsciamente ha potuto staccare la spina. Lui ha capito il momento e il messaggio, ma io l'ho fatto per lui, perché gli voglio far capire che la squadra ha bisogno di lui. Nelle migliori condizioni, per un minuto, per 90 minuti, per 5 minuti può essere determinante per questa squadra. Ma tutti, non vuole solo per lui, per tutti, perché da qui alla fine le partite secche si giocano episodi particolari, chi sta meglio, chi sta meno bene. Quindi il Cesare ha bisogno di tutti. Lui l'ha capito perché è un ragazzo intelligente. So che ha sofferto per le aspettative che aveva lui di dimostrare di essere un giocatore importante, ma io gli ho detto, per me, già che un calciatore ha dei valori importanti, per me è un giocatore importante. Poi le prestazioni vanno di pari passo con l'andamento della squadra, con il tuo stato mentale. Lui quello deve riconquistare. Roberto. Sì, tornando un attimo a Cristian, infatti lui ha ringraziato, ha detto, ho sentito che il mister poco alla volta mi dava fiducia. Quindi, cioè, ha sempre creduto... Sempre. Magari è stato anche penalizzato perché a volte delle scelte sceglievi un altro attaccante. Come adesso sono stati penalizzati magari King o Ferrante o altri attaccanti. È stato un periodo in cui magari gli altri giocavano con più continuità. Lui adesso sta giocando con più continuità e è normale che hai più possibilità di renderti importante. Ma ero convinto che prima o dopo facesse gol anche Cristian perché ha delle qualità incredibili anche lui. Ha lavorato e sta lavorando sempre a testa bassa, con un grande impegno, con grande dedizione, aspettando il suo momento. È arrivato anche oggi e ne arriveranno altri. Mandare in gol 18 giocatori e fare un record, praticamente hanno segnato tutti o quasi. Cosa significa da questo punto di vista? Ma significa che è una squadra che gioca da squadra, è una squadra che porta, attraverso il suo gioco, la sua identità, porta tanti giocatori ad essere pericolosi o sulle palline attive o su costruzione di gioco o su azioni combinate. Questo ti fa piacere perché vuol dire che il lavoro che si è fatto è stato un lavoro importante, ma soprattutto da parte dei ragazzi che ci hanno creduto sempre sul lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Bisogna continuare su questa strada perché più freccia hai nell'arco, più puoi abilità di portare a casa le partite che hai. La Reggiana in B, pensi sia fedele il verdetto del campo? Chi vince, alzale, esulta, gli altri devono aspettare. Facciamo i complimenti alla Reggiana perché devi fare i complimenti a chi vince il campionato. Pensiamo all'Alessandra perché è quello che verrà dopo, perché vorremmo anche noi alzare le braccia. Hai servito particolarmente alla curva? Sì, perché era l'ultima partita casalinga del campionato e mi sono voluto gustare questo spettacolo, ma non solo la curva, ma anche i distinti, anche la tribuna. Pensavo, non glielo abbiamo regalato, ma glielo dobbiamo regalare. Sì, mister, le chiedo solo una battuta sulla Vispesaro. Ha detto prima, una squadra che ha fame di punti, si aspettava una cattività agonistica maggiore oppure bravo il Cesena perché praticamente non hanno tirato in porte? Sinceramente a me ha fatto una buona impressione per come è stato in campo, per come è venuto ad aggredirci, a rischiarsi anche l'uno contro uno dietro, perché poi quando vieni a prenderti uno contro uno davanti ti rischi qualcosa dietro e noi in quelle situazioni siamo stati bravi anche a creare al primo tempo tre o quattro situazioni importanti, però è venuta con coraggio, è venuta con qualità. C'è nell'organico dei giocatori che ti possono risolvere la partita, come Gucciarelli, come Valdifiori sul palle inattiva, sul Fedato. Sono i giocatori che se gli dai mezzo metro, l'avevo detto anche in conferenza stampa, sabato e venerdì, gli dai mezzo metro, gli danno opportunità, ti fanno gol. Sono abituati a questi tipi di episodio che ti sbloccano le gare. Eccoci qua, ciao Cristian, insomma immagino lo stessi aspettando da settembre questo gol, insomma come te lo immaginavi così, quanto lo avevi anche sognato di notte, insomma. Sì, era tanto che speravo di stendere il mio primo gol e è arrivato il momento della partita in cui mancava poco e l'abbiamo chiusa. Insomma, ci hai andato a abbracciare la famiglia come fa sempre il tuo gemello. Questa, insomma, lo so che l'aspettare tutta la stagione ti pesava comunque il fatto che comunque giocavi, lo spazio comunque un po' è riuscito ad averne, però questo gol non arrivava. No, ma penso per un attaccante comunque fa sempre piacere segnare. Io, anche se nelle partite in cui sono entrato non sono riuscito a segnare, ho cercato sempre di dare contributo alla squadra, cercando di aiutarli nel gioco e in tutto. C'era stato un bellissimo assist per una vittoria importante ad Ancona, insomma, non è un gol però poco ci manca. Ti senti comunque, specialmente nel giorno di ritorno, più coinvolto anche nelle scelte, comunque ti senti migliorato rispetto all'inizio stagione? Sì, sì, comunque anche grazie al Ministro, pian piano con la fiducia, ovviamente sono migliorato e comunque penso che il gol di oggi è un po' il fatto che questo miglioramento che si è andato pian piano sia arrivato al punto finale con la chiusura del gol. Dopo partite hai avuto modo di sentire più parole con Steven, ti ha detto qualcosa? Sì, 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 l'ho appena fatto il gol e dopo aver festeggiato sono andato ad abbracciarlo e alla fine partita mi abbiamo fatto un po' di battutine. Eh, no, non si può dire. Private. Roby? Averto? Si vedeva quando sei entrato che ne avevi una gran voglia perché forse nelle prime due azioni ci hai messo un po' troppo irruenza, hai commesso un paio di falli che forse... Sì, ho commesso due, tre falli subito, però dai, anche se secondo me erano dubbi, però ero un salto un po' frettoloso e poi pian piano mi sono calmato. Come caratteristiche tecniche, io ho parlato con qualche vostro ex allenatore, è vero che tu sei forse un po' più centra... cioè sei un po' più... Sì, in generale sì, anche negli altri anni io ho sempre giocato un po' più avanti rispetto a Steven, lui era un po' che rifiniva il gioco, io stavo là davanti in aria. Ha avuto l'errore? Sì. Il controllo è un problema con te, comunque, come vedo un cittadino, dopo lo scopo c'è molto veloce a tirare, perché comunque c'era difensore in scivolata, insomma, non è scontato a segnare quel gol lì, perché comunque dalla tribuna t'ho visto tirare proprio molto molto presto. Sì, appena ho stoppato la palla non ho anche guardato la porta, ho accalciato perché sapevo dove fosse, ho soltanto mirato la porta. No, vabbè, c'era Bucciarelli e Saber, ho chiamato la palla da dietro, Saber forse non mi ha sentito, anzi sicuramente non mi ha sentito, ho colpito la palla, Saber ha fatto così, è stato fatto male, fidate, ho fatto veramente male, mi ha stonato un pochettino. Quindi nell'azione hai stato fatto male? Sì, è stato forse 5 minuti dopo il gol, subito dopo il gol, 5 minuti dopo che eravamo lì, sul rinvio del portiere è stato, però non è niente, non è stupido oggi. Un piccolo taglio? Sì, sì, un piccolo taglio. Ecco, vediamo un po' il gol, sei già 4 gol in carriera, cioè in carriera stagionale, mi hanno controllato, correggici, se sbagliamo solo ad Avellino hai fatto gol in Serie C, 4 gol in una stagione, è possibile? Sì. Quindi il tuo record? Sì, sì, assolutamente sì, ho guaiato il record di Avellino con 4 gol, assolutamente sì. A Siena hai fatto gol quest'anno? No, zero, solo assist. Ecco, spiegaci un po' questo tuo, qui a Siena, ti abbiamo scoperto un gol ad ora, anche tu stesso forse sei scoperto un gol ad ora? Diciamo che il fatto di essere gol ad ora, quasi ogni anno ho segnato, tranne forse un'annata, i sei mesi a Siena mi è capitato, però più o meno durante l'anno riesco sempre a fare uno o due gol, questa volta ad Avellino mi sto scoprendo un po' di più, pure baciato dalla fortuna, perché comunque il gol di oggi è pure baciato dalla fortuna, da andare di più di due gol, ed è una cosa che comunque fa piacere, ma preferisco sempre essere, non subirne, la cosa che quando sono arrivato qua mi sono presentato per quella cosa io, di non subire gol, dei cliched hit, di fare la migliore difesa. Ma perché dici hai baciato dalla fortuna, il tuo tiro forse entrava lo stesso? Non lo so se entrava, devo rivederlo, ancora c'ho delle immagini in testa, non mi ricordo benissimo, però non so se entrava, perché sì mi ero coordinato bene, prendevo lo specchio della porta, ma non so se fosse stato centrale oppure laterale il tiro, devo rivederlo. Quello forse non entrava, ma quello che ha tolto Celiento, quello sì, infatti sì, lì mi ero già accorto che la palla stava entrando, poi sono caduto, ho visto la palla fuori, ho detto ma che è successo, e ho detto c'è lì ma me l'hai tolta, mi fa no no, andava fuori, però mi aveva detto con poca certezza e sicurezza, ho detto ma sicuro, mi fa sì sì, andava fuori, andava fuori, ho detto vabbè, andava fuori, ok, poi sono arrivato, ma guarda se avesse fatto gol, ero pure contento, ho detto gol e assist comunque ero lo stesso contento, però mi dispiace tu perché se era in porta, mi ha tolto il gol, alla fine ci rido su perché poi è andata bene la partita che abbiamo vinto. Perché è una doppietta, ma l'hai fatto? No, una doppietta, sì sì, assolutamente sì. Ecco, io volevo chiederti invece come ti trovi con questo modo nuovo di iniziare l'azione su calcio di rinvio? A me piace, perché l'ho fatto a Siena, lo facevo sempre, da Siena iniziavamo tutte le azioni dal basso così, rischiando perché quando ti vengono a prendere così alti devi rischiare perché significa che lì davanti, a parte dietro loro, c'è l'uomo contro l'uomo, quindi se tu superi la prima linea di pressione hai un vantaggio importante e quindi devi rischiare. A San Donato l'abbiamo provato, siamo spesso usciti trovando anche gli attaccanti i gol e oggi abbiamo cercato in gran parte di farlo pure. Comunque mi piace perché mi piace rischiare. Ecco, adesso oggi va bene, playoff matematici a questo punto perché la Reggiana è in Serie B, però siete secondi a questo punto. Domenica l'Alessandria e poi il tuo Siena deve fermare l'Entella e quindi avrete la matematica, sicurezza del secondo posto, è importante il secondo posto, è una consolazione però comunque un buon vantaggio per i playoff. Noi ci credevamo, fino ad oggi ci credevamo sempre al primo posto, non abbiamo mai perso le speranze di arrivare primi e abbiamo giocato sempre puntando al primato e oggi matematicamente è arrivata la promozione della Reggiana e ora il nostro obiettivo è arrivare ai secondi, che cambia tanto arrivare ai secondi e ai terzi cambia molto, quindi proveremo a vincere pure ad Alessandria confermando il secondo posto che comunque è molto ma molto importante in ottica playoff. Nell'ottica dei playoff io ti chiedo a che punto, cioè come la vedi la squadra sotto tutti gli aspetti, fisico, morale, fiducia? Innanzitutto dobbiamo recuperare tutti, soprattutto gli infortunati che sono ottimi giocatori, grandi compagni di squadra e quindi cercheremo di recuperare il più possibile loro. Poi io ho fatto i playoff, non li ho mai fatti, due anni fa da Avellino non li ho fatti perché mi sono fratturato il malleolo, quindi non ho potuto partecipare ai playoff, se non in semifinale ma venti minuti ma ero ancora a zoppo. A potenza ce li ho fatti le prime due turni, li avevamo superati e la terza non l'ho giocata perché ero abbastanza cotto fisicamente. È importante arrivarci fisicamente e mentalmente al top, quello è importantissimo. Chi sta bene ai playoff è tosta per gli altri.